Ci sono tutti gli elementi essenziali della riflessione svolta da Don Giulian Carrona a partire dal 2005, anno della sua elezione a Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, dopo la scomparsa del fondatore Don Luigi Giussani, nel libro La bellezza disarmata, presentato domenica nella sala refettoria della Biblioteca Speregliana, con gli interventi introdotti dalla musica di Paolo Barboni, libero professionista, e Mariella Carlotti, insegnante di lettere nella scuola secondaria superiori, presenti il sindaco Stirati e il vescovo Cecco Belli. Una platea attenta ad ascoltare gli interventi incentrati sugli iscritti, nati in occasioni diverse che sono stati ampliamente rielaborati e ordinati dall'autore, chiamato nel 2004 dalla Spagna proprio da Don Giussani, per condividere con lui la responsabilità di guida del Movimento. Tra l'altro per una tematica di strettissima attualità nel contesto internazionale, se si pensa che il titolo del libro trae origine da un intervento di Don Carrona sul Corriere della Sera, a margine della strage nella redazione di Charlie Hebdo, quando si posa un interrogativo, ma noi cristiani crediamo ancora nella capacità della fede che abbiamo ricevuto di esercitare un'attrattiva su coloro che incontriamo nel fascino vincente della sua bellezza disarmata? Lo scopo della pubblicazione è quello di fornire organicamente i fattori di un percorso decennale, lungo il quale egli ha approfondito il contenuto della proposta cristiana nel solco di Don Giussani, alla luce del Magistero Pontificio, in paragone col travaio e le urgenze dell'uomo contemporaneo. Il volume vuole offrire il contributo di un'esperienza di vita a chiunque sia alla ricerca di ragioni adeguate per vivere e costruire spazi di libertà e di convivenza in una società pluralistica. Libro che è un invito ad aprirsi agli altri e non irrigidirsi sulle proprie posizioni, occasione d'incontro e una circostanza preziosa anche per i cristiani, chiamati a verificare la capacità della fede di reggere davanti alle nuove sfide, chiamati a entrare senza timore in un dialogo a tutto campo.